Grazie all'aiuto di MTF in breve tempo abbiamo praticamente fatto il go-live con BEAS. Noi negli ultimi anni siamo migliorati soprattutto a livello di produttività. Abbiamo visto un incremento quasi del 20 per cento. In questo miglioramento che stiamo avendo e che speriamo di continuare ad avere, sicuramente SAP Business One e BEAS hanno un ruolo fondamentale.